Rione Stella, 75enne, scippato dal collier d'oro. Danni fisici per escurazioni e dolori al collo e bottino che si aggira intorno a 1000 euro. L'uomo stava camminando in via Ricciardi quando all'improvviso pare che un delinquente gli abbia scippato dal collo l'oggetto d'oro. Il 75enne non ha reagito, ma ha subito delle escurazioni provocate dal tirare la catenina dal collo. Il delinquente è scappato via e non sarebbe stato visto in volto dall'anziano. Sul posto sono giunti gli agenti del commissariato di sicurezza del vicequestriore aggiunto Immacolata Concia per sentire il 75enne che ha sporto denuncia ed avviare le indagini del caso. Gli inquirenti pare stiano verificando la presenza delle telecamere per poter visionare i video per cercare di identificare lo scippatore.